bello a tutti ragazzi una maschera di marshmallow in pratica marshmallow sarebbe un dj che ha spopolato nel video gioco di fortnite e il sabato scorso infatti c'è stato un evento dove tutti i pregamer si sono incontrati in questo evento quindi è stato bellissimo e noi ora dobbiamo costruire la maschera di marshmallow dobbiamo fare un supporto interno lo facciamo con un cartoncino un cartoncino diciamo abbastanza duro un bianco che deve sostenere io ce l'ho nero però potete utilizzare quello bianco la stessa parte quindi ok giustini con la mia allora innanzitutto prendiamo il cartoncino e vediamo la misura io la farò su alex però ora vi faccio vedere il suggestivo la misura per quanto riguarda l'altezza dovrebbe essere lì quindi ritagliamo ritagliamo una volta una volta fatto il cilindro dobbiamo fare la parte superiore il cappello vero e proprio e dobbiamo intagliare dei bianco per la bocca e per il bianco bello la misura naturalmente quindi devi mostrare la maschera in questo caso di alex lo andiamo a montare nella maschera così così e poi andiamo a praticare cioè facciamo il disegno degli occhi e della bocca e li tagliamo a questo punto abbiamo ritagliato i fiori per respirare con gli occhi e la becca anche se non sono perfetti non fa niente perché comunque questi vengono rinforzati poi li applichiamo abbiamo detto il cappello vedete lo faremo più in guido e gli andremo ad applicare la retina che è questa qua abbiamo preso questa ora andremo a utilizzare questo tipo di carta che è una carta gommata guardate è una carta gommata di solito serve per fare le maschere e dà molto l'idea del marshmallow ciao marshmallow sei tu? e questa è la maschera la maschera finita guardate è proprio carina veramente è proprio al tatto sembra proprio un marshmallow ciao ciao allora niente questa è la maschera capite bene che con Justine fra i piedi che magari vuol toccare vuol tagliare vuol fare lei insomma la perfezione non ci può essere però se seguite il nostro tutorial a voi verrà sicuramente meglio quindi noi vi salutiamo iscrivetevi e lasciate un like grazie ciao 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 ciao